Ciao Lucio, qui c'è il mio amico Steve, presidente e fondatore dell'associazione ANAZART e ti stiamo invitando qui a Nazaré appena possibile e ti ospiteremo come socio onorario dell'associazione ANAZART. Com tutto il prazer. Lui non parla spagnolo, cubano, non lo entendo. Non lo entendo portoguese, questo è ANAZART, l'associazione Nazarena di Arti Plastica. E corrigir, non sono fondatore, ma sono presidente. Ah, ma... maio o meno. Maio o meno. Capiccio, anche capiccio. Ciao. Pronto, siamo bene con questo.